Buongiorno a tutti ragazze, oggi parliamo del balsamo Restore Pro Fiber, ovvero un balsamo per tutti i capelli fini, danneggiati e sensibilizzati. Questo è un prodotto che a tempo di posa pari a zero ci aiuterà a rendere il cappello districato, morbido e nella sua lunghezza, nella sua fibra, riparato. Quindi se abbiamo qualche minuto in più di tempo possiamo lasciarlo in posa, altrimenti lui proprio veramente applicato, districato, pettinato ovviamente e sciacquato lui agisce e avremo un capello morbido, setoso e comunque più forte, più riparato, una fibra molto più lucida e setosa. Grazie ragazze, alla prossima!